Final Fantasy VII Remake, capitolo 17, fuga dal caos. Allora, ho cambiato intanto armi e personaggi, le ho livellate ed ho iniziato a registrare. Allora, mi ha dato un gruppo. È obbligatorio da non scegliere, tre in squadra. Ok, bisogna andare via da qui. Bisogna andare via da qui? O bisogna parlare? Ho ripreso la vita. Zona X. Devi parlare con lei? Allora, sì, devi parlare, Zona X. Allora, ti spiega un po' la storia. Ti spiego ulteriormente la storia. Il cane barra leone. Si è giunto a noi. Ayriss, l'abbiamo recuperata, si è ripresa nel gruppo. Vediamo cosa succede. Allora, ti spiega un po' la storia. E' un po' la storia. Dai, cara, bisogna uscire di qui. Ayriss, lo conosce? Terra promessa. Mi sa che serve un sacrificio. Infatti, lei quando muore, muore col sorriso. Va in questa terra promessa. Roba di genere. Dai, i gruppi si dividono ora. Siamo in cinque. Beh, io ho un gruppo obbligatorio. Ma differentemente dal vecchio gioco. Che potevo scegliere. Chi tenere in gru. C'è anche un orecchino, questo cane. Più avanti avrà un villaggio. Tutto suo. E' un po' la storia. Aspetta, aspetta, aspetta! Perché tu conosci qualcosa di così? Non ti senti un po' più difficoltà e ti senti una cosa semplice? Lui ha molti anni, mille, non lo so... Trecento... Non sia un'inno. Quando Eris ha contato a me, c'è anche un'esercizio di Führer. Sì... Sì... Eori! Noi, non c'è un'esercizio di Sina. Il risultato è un'esercizio di Sina, ma... c'è un'esercizio di altre persone. Io... voglio aiutare! C'è anche l'esercizio di Mahwe. Cioè, non mi convince, boh. Eris, cosa vuol dire? Celesti particolari! Ora... come un'esercizio. Non mi sembra più che il passaggio non si può andare. Quando il Führer si riuscirà... ... 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